Sottostante è il Fuzzi Meeble, l'abbiamo detto prima, strategia che si è aperta durante la diretta, così come ho sottolineato. Cosa mi ha portato in direzione longa? Allora, uno, a constatazione che ormai diamo per violato questo livello resistenziale statico, che vi si apre una struttura con un doppio minimo, addirittura volendo si potrebbe considerare un triplo, qui un doppio minimo che all'interno di un altro doppio minimo, che la figura di stampo rialzista, che la propensione al rischio sembra favorevole, che la stagione delle trimestrali oggi potrebbe essere un traino per piazza affari, poi all'interno di tutto ciò ero andato a vedere il grafico con un time frame a un'ora. Quando avevo selezionato l'operazione, insomma, non c'era questa candela rossa, ma era questa candela verde, che era anche bella alta, segnalava, insomma, la volontà di procedere nuovamente al rialzo, di uscire da quella fase di congestione delle ultime ore e qui, insomma, vediamo anche la train line. A quel punto cosa ho fatto? Ho scalato il time frame sul grafico a dieci minuti e lo vedete, qua adesso abbiamo una doppia train line perché è quella che ho disegnato anche sul grafico a un'ora che va a raddoppiarsi, ma comunque vedete questa linea di resistenza dinamica diventata supporto, l'ho coniugato con quel livello statico che mi indicava l'aria, appunto, in questo caso dei 23.567, ma era tutto ed è tutto l'intervallo, secondo me, compreso fra i 5.50 che citavo prima, i 5.70 e a quel punto basta, ho posizionato l'ordine in acquisto e li ridico così li potete anche segnare, 23.565 punti l'ingresso, 23.470 lo stop, 23.720 quello che è l'obiettivo, andiamo a tradurlo da un punto di vista grafico e quindi scalo ulteriormente, vado sul grafico a due minuti, sostanzialmente dove ho posizionato l'ingresso, lo vedete qua a livello di questo livello tutto segnato in area, appunto, 23.565, il target qui in prossimità dei massimi di giornata, ho cercato di interpolare un po' quelli che sono stati i livelli che si sono sentiti maggiormente nella prima fase di contrattazione, lo stop, 23.470, perché? Perché qui abbiamo un livello importante, la storia psicologica anche dei 23.565 che poteva sancire la fine di questo movimento rialzista, ma andando proprio su altri time frame un po' più estesi e lo vediamo anche qua, ho detto, sapete che c'è, cerchiamo di dargli un po' di agio anche perché è un'area che ha tanti livelli di supporto statico, lo stop vero dove si mettono è area 23.460, 23.450, però vi è una questione anche di performance di squadra, qui devo stare un attimo attento, già danni non fatti abbastanza e quindi considerando che una leva ai 12.91, questi sono i livelli operativi. grazie a tutti. grazie a tutti.